buongiorno a tutti questo è un gameplay su killer instinct dove sto usando fulgore come cavolo lo chiameremo predator perché è uguale con la skin vecchia, la difficoltà ai media e la fa vedere contro thunder, cos'è contro thunder? niente volevo far vedere questo gameplay perché è un gioco che all'inizio avevo, diciamo, odiato no, beh, odiato no, esagerato, svalutato ecco, però poi dopo andando avanti, poi recentemente l'ho preso in mano dagli ultimi aggiornamenti, gli sviluppatori sono riusciti diciamo a farlo diventare un gioco abbastanza, diciamo, serio, cioè no, vabbè, è serio, però l'hanno fatto con qualche miglioria, cioè che gli serviva, qualche miglioria che serviva, tipo le lobby, io mi ricordo che all'inizio, quando era appena uscito, io e i miei amici non uscivano a giocare perché non esistono le lobby, era un casino incontrarci uno contro uno, adesso sono queste lobby che sono veramente carine, che poi possono starci dentro otto giocatori dentro, quindi è molto comodo, cioè, hai un gruppo d'amici online, ti fai una partitina così, poi in picchiato quello ci sta, niente, lascio il gameplay e... bella a tutti ragazzi, a ricordare che il killer listing è gratuito, poi tipo il personaggio che sto usando io è a pagamento, anche se non credo che costino tanto un personaggio singolo, non credo che costi tanto, adesso non non so il prezzo giusto, comunque buona visione, ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie. Grazie. Grazie.